E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro update mattutino il Morving with Crypto andremo a vedere quello che sta accadendo ai mercati in realtà perché andremo a vedere che c'è stata una flessione ma appunto è un po' un tiro alla fune e andremo ad approfondire un pochino meglio nel dettaglio andremo a vedere anche un paio di news che ho selezionato per voi molto interessanti i principali gainers e losers di CoinMarketCap ma prima di partire come sempre il mio invito è uno quello di lasciarmi un bel mi piace iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto per rimanere sempre aggiornati io tendo a fare 1-2 anzi sempre 2 contenuti al giorno quindi è l'unico modo per rimanere sul pezzo perché appunto sono contenuti che trovano applicazioni visti subito ok? Trovate anche in descrizione tutti i link, tutti i ref che sono sempre aggiornati con le ultime appunto promo quindi mi raccomando se vi interessa dateci uno sguardo partiamo con la prima news che è una news secondo me molto molto interessante che vi fa capire un po' come i ragionamenti dei big siano particolarmente diversi dai ragionamenti dei retail questo perché Morgan Stanley detiene sopra un milione di azioni di grayscale Bitcoin Trust quindi praticamente è come se detenesse Bitcoin attraverso grayscale e guardate un po' quando è che è andato ad acquisire la maggiore posizione quando Bitcoin si girava intorno ai 30.000 ok? quando tutti ormai davano per spacciato Bitcoin quando ormai tutti andavano a chiamare cifre vicine ai 25, 20, 15 cose del genere quindi ricordatevi che quelle sono ottime occasioni di buy per i grossi ok? quando vanno a voler entrare in un settore non se lo comprano in FOMO non vanno dietro alla FOMO o sono entrati prima oppure aspettano aspettano e quando è il momento che il sentiment di mercato e altre condizioni ovviamente vanno ad incrociarsi è il momento di sganciare e di comprare ok? questo per farvi capire ma so che è difficile e quando ci si trova in quelle condizioni cioè è facile da dire ma è difficile da attuare no? perché molto spesso ci si prende in panico no? chissà dove andremo però è lì è lì che a livello rischio rendimento non mi stoffro mai di dirlo esistono le occasioni migliori ok? le occasioni per andare ad avere ottime posizioni di investimento non vogliono fare trading ok? vogliono investire e questa è la situazione migliore così come Binance stessa cosa dopo tutto il FUD oddio oddio chiude tutto chiude Binance in realtà non chiude nulla anzi Binance ha completato quelli che sono i requirements che gli sono stati chiesti dalla UK Financial Conduct Authority che è stata la prima un pochino no? se vi ricordate a mettere in difficoltà Binance andando a limitare quelli che sono i servizi poi a ruota ovviamente sono arrivati anche altri paesi europei in realtà ora sono in regola e appunto è stato annunciato dalla FCA direttamente che ha detto in data 25 giugno la FCA ha imposto dei requisiti a Binance Markets Limited e appunto l'azienda ha completato tutti gli aspetti richiesti ok? quindi allora la buona Binance è pronta ok? può lavorare in Inghilterra questo vi fa comprendere come in realtà sembra sempre che si vada sempre nella direzione più devastante quando in realtà ci sono delle vie di mezzo e Binance ha voluto lavorare in quella direzione quindi molto bene per Binance anche lì trovate qui sotto in descrizione il ref per Binance che vi da il 20% di sconto per sempre sulle vostre operazioni che non è assolutamente male quindi se eventualmente vi interessa utilizzatelo pure andiamo a vedere velocemente andiamo su sulle cose scottanti il prezzo ok? che so che ci interessa molto soprattutto nel breve andiamo a vedere principalmente i gainers troviamo Riven che fa un più 16 85 con un più di 16 settimanali Tezos un più 11 con un più 41 settimanali Decentraland Bancourt Decreed Zillica Pancake ma poi vedete in realtà niente di clamoroso che niente di chissà quanto forte in crescita troviamo quindi una situazione di prezzi che comunque dato gainers evidenza comunque qualche progetto che va contro tendenza a livello invece dei losers troviamo Avalanche che fa un meno 15 40 non più 46 settimanali Avalanche è andato molto in fomo nell'ultimo periodo con le collaborazioni che ci sono state appunto di questi progetti però attenzione perché appunto le correzioni sono sempre dietro l'angolo comunque fa un più 46 settimanali quindi comunque si mantiene più che positivo però questo per farvi capire che se entrate al top ovviamente poi questa è la conseguenza molto svolta poi può andare anche bene ragazzi potete entrare in all time e lui può continuare però sempre con un attimo di attenzione l'una fa un meno 940 con un meno 16 settimanali io direi correzione abbastanza anche qua salutare perché non si può sparare i 100 dollari diretti secondo me audio meno 6 con un meno 18 stiamo un pochino tornando nei ranghi dopo aver scontrato la notizia di tiktok sintetix sintetix fa un meno 5 con un più 4 tanto meno 5 insomma queste mantengono la settimana positiva sushi kusama diciamo che l'importante è almeno vedere che questi nomi la principale di nomi stanno mantenendo comunque settimana positiva perché mantengono il loro uptrend a livello di chart cosa sta succedendo in realtà non sta comportando benissimo il prezzo perché ha fatto un'ottima chiusura nella giornata di ieri voglio farlo vedere perché l'abbiamo chiuso veramente bene veramente bene perché siamo andati a recuperare addirittura i 49 in chiusura con un top a 49.2 ma questo è successo una mattina in realtà dopo la chiusura siamo andati in questa fase correttiva abbastanza spinta e stiamo andando a riassorbirci la candela positiva ora vediamo se questa trendline ci terrà nuovamente da supporto ora lo vediamo sull'orario magari vedete come effettivamente il prezzo stia andando a correggere in maniera abbastanza forte ma in realtà con volumi che non sono neanche chissà quanto accentuati perché guardate questa candela qua di rigetto è alla metà fondamentalmente dei volumi della candela di prima che ha spinto addirittura il prezzo sui 49.3 alle ore 2 ok 49.3 alle ore 2 e ora sta andando a correggere con la metà dei volumi non ci sono continuazioni di volumi questa è la candela un po' più rilevante ma che se guardate in confronto a quella delle 16 di ieri non è nulla cambia di indecisione rottura ribassista però vediamo un attimino come comporta perché abbiamo visto già qui quello che è successo ieri quindi può tranquillamente fare un reversal però appunto vediamo anche perché i volumi non sono eccessivi e non vedere volumi eccessivi su queste candele personalmente le trovo attendibili sempre poco guardate i volumi di questa rispetto a queste candele qua i volumi in diminuzione lo vedete molto bene volumi decrescenti prezzo in salita divergenza e quindi tendenzialmente sono movimenti che poi non è che siano quanto significativi sono più significativi i movimenti dove ci sono dei volumi importanti perché vanno a dare una direzionalità più forte al prezzo a livello di market cap ci avviciniamo in una zona critica che non sapete quello che vi ho detto non voglio vederli perdere i 2 trillions però vedete quanta volatilità c'è lo vedete cioè ieri siamo passati da un minimo 1.97 siamo tornati nella notte a 2.08 stanno entrando billions e uscendo billions quindi attenzione a non farvi fregare da questi movimenti perché sono movimenti che tendono a spiazzare ok soprattutto i piccoli investitori perché poi è facile entrare in panico è facile andare in fomo quindi sono queste le cose che sono più pericolose ecco per gli investitori piccolini il resto dei nomi si muove più o meno diciamo a braccetto mettiamola così non c'è particolare direzionalità se non qualche nome che ovviamente outperforma qualche altro che downperforma però tendenzialmente sarà interessante ok è una giornata di oggi vedere un pochino quello che accadrà anche se mi aspetto appunto una una situazione una situazione di di studio del mercato ok perché la giornata di oggi sarà importante per vedere un po' la chiusura di domani settimanale però appunto ne approfondiremo poi questa sera dovremo molti più dati a disposizione io ragazzi intanto mi fermo qua se questo contenuto vi è utile vi è piaciuto vi invito lasciano un bel mi piace iscrivetevi al canale con il suo campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto questa sera col contenuto di analisi tecnica ciao a tutti ragazzi